i volley che supera 3-0 a domicilio anche Corigliano nel turno infrasettimanale. Stasera potrete vedere la telecronaca di Corigliano-Gherardi Città di Castello alle ore 21.30 su TRG1 Canale 111. Il sestetto Tifernate resta in vetta alla classifica assieme ad Ortona e domenica riceverà al Palagioan Monza, distante due punti da Rosalba e compagni. In 1-1 invece l'attesa è tutta per il derby tra Sir, Safeti, Perugia e Alto Tevere e San Giustino che si giocherà domenica al Palavangelisti, partita che potrete seguire in diretta radio su RGM a partire dalle ore 18.